ciao sono francesco gambazzi e questo è il mio canale youtube il bus fishing è la mia passione se anche tu sei appassionato di questa pesca iscriviti subito al mio canale tanti nuovi video pieni di catture ti aspettano e in più troverai tanti video didattici per apprendere al meglio tutte le tecniche del bus fishing pesca da riva da belly boat e anche dalla barca tutto questo lo puoi trovare sul mio canale francesco gambatti bus fishing io vado a pescare tu intanto iscriviti al mio canale ciao